Il turismo in provincia di Salerno può crescere solo attraverso la costruzione di una strategia turistica condivisa che metta al centro dati, numeri, esperienze e valori. Lo ha detto il presidente nazionale della Fena Help Turismo in apertura della tre giorni della convention Quadri Generali del Turismo Sostenibile. Un'iniziativa unica nel suo genere che punta in queste tre giorni a mettere al centro i dati e i numeri nella discussione politica e di programmazione riguardo al turismo. Troppo spesso negli anni abbiamo assistito a scelte politiche e scelte strategiche che non basate sui numeri e questo ovviamente ha prodotto poco rispetto a quello che potenzialmente avrebbero potuto produrre. Quindi anche il turismo va programmato e gestito in maniera seria e quindi come in tutte le aziende accade quando si predispongono i budget annuali è evidente che anche, anzi a maggior ragione, nel campo pubblico gestendo soldi pubblici è importante che quando si allocano risorse pubbliche debbano essere queste risorse allocate seguendo una logica tecnica scientifica basata sui numeri. Questo è il messaggio che intendiamo lanciare con questi quadri generali, i numeri al centro della programmazione della strategia. Per la provincia di Salerno ha relazionato il consigliere a ramo Pasquale Sorrentino che si è soffermato sulla necessità di favorire la destagionalizzazione e la connessione tra pubblico e privato e potenziare e migliorare l'offerta culturale.